Ci troviamo a Praga, siamo in un garage di un collezionista di auto, qui abbiamo una bellissima macchina di rappresentanza dove hanno portato il presidente della cieca e il collezionista ci ha chiesto di poter dare una spolverata, una lucidata alla vettura. Come vedete la vettura è ancora in buone condizioni. Vieni, vieni, basta ad applicare solo la staccia sul prodotto e guardate il risultato che si ha, guardate come è facile e veloce da applicare. Senza aloni, senza di verbero, guardate che non c'è terza profonda che deve cessare, vedete la differenza? Dove consiglio la staccia?